Donna investita salva la figlia, incidente questa mattina in via Annuti a Casal Saligoro, una quarantena è stata investita da un'ape, la donna spingeva un passeggino dove c'era la figlia di pochi mesi, fortunatamente la mamma ha avuto la forza di spingerlo fin quanto basta per evitare l'impatto, falso allarme, bomba a chiave, rinviare delle medaglie d'oro per una valigetta abbandonata fatta brillare a mezzogiorno e mezzo dagli artificieri, era abbandonata su una panchina nei pressi delle poste, risultato poi innocua. Vieto Sentella è tornato a Lietti, la società bianco celeste ha scelto il sostituto di Castorino, esonerato ieri dopo il pareggio casalingo di sabato contro il Cesena, il neotecnico torna a Chiaveri dopo l'esperienza nel maggio 2015 nel campionato 2015-2016. Buonasera dal TGT Guglio, una donna questa mattina a Casazza e Rigore è stata investita da un'app, stava spingendo un passeggino dove all'interno c'era la figlia di pochi mesi, fortunatamente la donna che si trova ora a San Martino di Genova ha avuto la forza di spingere via la carrozzina ed evitare l'impatto. Incidente stradale questa mattina attorno alle 10 in via Nuti a Casazza e Rigore in Val Petronio. Una quarantenne è stata investita da un'app e car. La donna stava spingendo il passeggino con dentro la figlia di pochi mesi, fortunatamente è riuscita a spingerlo lontano in modo tale da evitare l'impatto con il mezzo. Sul posto, all'altezza della farmacia Casella, sono giunti un'ambulanza, il 118, i carabinieri e la pulizia municipale di Casazza e Rigore. La bambina si trova attualmente dai familiari, mentre la donna, che ha riportato un trauma cranico e altri di diverso tipo, è stata trasportata con l'elicottero dei vigili del fuoco all'ospedale San Martino di Genova, dove si trova intubata. Nell'impatto, infatti, la signora ha battuto la testa. Due veicoli attorno a mezzogiorno hanno urtato un oggetto ferroso presente sulla carreggiata in direzione Rosignano sulla 12 tra Lavagna e Sestervante. Questo oggetto ferroso era stato perso da un terzo mezzo. Nell'incidente non si sono registrati feriti e il traffico è tornato alla normalità una volta rimosso, appunto, l'oggetto in questione. A Chiavari, invece, c'è stato un falso allarme bomba. Questa mattina è stata fatta brillare una valigia sospetta, poi rivelatasi innocua. Allarme bomba nella tada mattinata di oggi in viale delle medaglie d'oro davanti alla stazione ferroviaria di Chiavari, dove è stata fatta brillare una valigetta sospetta lasciata abbandonata su una panchina nei pressi dell'ufficio postale. La segnalazione è partita dalla Polizia Municipale di Chiavari. Gli artificieri dell'arma dei Carbinieri hanno proceduto, attorno a mezzogiorno e mezzo, all'operazione. Presenti a supporto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari. La valigetta, che poi è risultata innocua, aveva destato sospetti in quanto presentava i sigilli dell'aeroporto e scritte in lingua straniera. Sigilli, tra l'altro, dell'aeroporto di Milano. Parliamo adesso di un lutto. Il mondo dei fumetti, infatti, piange uno dei suoi padri. Ieri è morto all'ospedale San Martino di Genova, Renzo Calegari, uno dei maestri del fumetto italiano. Nei giorni scorsi era stato colpito da un ictus mentre si trovava nella sua casa di Sori. Calegari, 84 anni, fumettista e autore con Gino D'Antonio della storia del West, che da Sergio Bonelli è pronto a pubblicare per i 50 anni della famosa saga, era nato a Genova a Bolzaneto. Ha collaborato con molti editori, con Bonelli ha disegnato anche Tex. L'ultimo premio lo aveva ritirato il 28 ottobre scorso, quindi recentemente, quando la società economica di Chiaveri gli aveva consegnato il Turio Coppello. Torniamo a Chiaveri, ma parliamo di politica. Dopo la mancata partecipazione alle elezioni comunali, riparte il Meetup 5 Stelle chiavarese. La lista del Meetup 5 Stelle chiavarese, che si era formata per le elezioni comunali 2017, si è riunita il 31 ottobre e ha deciso, all'unanimità, di continuare il percorso intrapreso nel 2012 sotto i colori del movimento. Ad annunciarlo il gruppo di attivisti pentastellati di Chiavari, che parla anche della ripartizione delle cariche organizzative del Meetup. Roberto Traversi portavoce, Davide Grillo organizer e Tatiana De Luca co-organizer, Barbara Tronchi addetto stampa e Jacopo Chioatto vice addetto stampa. Si riparte dunque dopo la mancata partecipazione alle ultime elezioni amministrative di Chiavari per il mancato avvallo da parte di Grillo e Casaleggio. La passione per il proprio territorio, affermano i grillini, la volontà di non perdere le competenze e il lavoro sviluppati nel tempo, la vicinanza di portavoce regionale e nazionale, ma in particolar modo l'interesse per l'attività svolta, hanno portato il gruppo a rinnovare il proprio impegno, dicono ancora. A breve verrà chiesto un incontro formale al sindaco di Chiavari Marco Di Capua, in occasione del quale verrà sottoposto una parte dei progetti elaborati in occasione del programma elettorale. Le istituzioni devono stare lontane da commemorazioni pericolose che non fanno altro che infangare la gloriosa storia patigiana d'Italia. Addirlo al deputato di Possibile, Luca Pastorino, che è stato anche ex sindaco di Bogliasco, che torna sulla questione, che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi, della corona con cui però da sempre il 4 novembre il comune di Rapallo omaggia anche la lapide dei caduti della Repubblica Sociale di Salò. Inutile che il sindaco si giustifichi dicendo che hanno sempre fatto così, perché vuol dire che hanno sempre sbagliato, dice Pastorino. Sono sicuro che dall'anno prossimo anche il primo cittadino, Carlo Bagnasco, metterà fine a questo teatrino che definisce degli orrori. E staremo a vedere. E adesso parliamo di calcio, parliamo di Vieto Centella. Ieri ha stato esonerato Gian Paolo Castorino, oggi l'annuncio del nuovo allenatore, che poi nuovo nuovo non è perché si tratta di un ritorno, quello di Alfredo Aglietti. Alfredo Aglietti è il nuovo allenatore della Vieto Centella, club che milita in Serie B. Il neotecnico bianco celeste prende il posto di Gian Paolo Castorina, esonerato ieri dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Cesena di sabato. Con Aglietti arriva a Chiavari anche il vice Alessandro Lazzarini e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Oggi pomeriggio Aglietti ha diretto il suo primo allenamento e sarà presentato domani a mezzogiorno nella sala stampa del Comunale di Via Gastaldi. Il neo allenatore inteliano torna dunque a Chiavari. Aglietti infatti aveva già allenato la Vieto Centella nelle ultime partite della stagione 2014-2015, dove però non era riuscito a salvare sul campo la squadra dalla retrocessione in Serie C. Durante l'estate scoppia il caso Catania e Bianco Celesti vennero riammessi in Serie B, dove Aglietti sfiora nella stagione successiva 2015-2016 i play-off. La Vieto Centella tornerà in campo sabato pomeriggio alle 18 in trasferta contro l'Avellino. E di questo e di molto altro parleremo stasera durante il punto sport che torna alle 20.30 per raccontarvi quello che è successo nel fine settimana calcistico dalla terza categoria fino appunto alla Serie B. In rappresentanza della neocostituita città metropolitana Stefano Anzalone, qui a Castiglione Chiavarese per questo evento che è un momento di attenzione per il sociale e per la scuola. Ma oggi è un momento importante per la comunità, per Castiglione. Insomma abbiamo avuto l'onore e il piacere di apprezzare queste opere così importanti per i bambini e le bambine, insomma per le future generazioni. Una comunità attenta al futuro, al percorso formativo, alla scuola. Un complesso completamente recuperato e devo dire con orgoglio che il sindaco di Castiglione ha lavorato tanto bene grazie a una giunta sicuramente che ha collaborato con lui e ha portato questo importante risultato non solo per Castiglione ma per tutte le comunità limitrofe perché tanti bambini e bambine poi arriveranno anche da fuori di Castiglione. Quindi è un momento, devo dire, importante per la comunità e per il paese ma per la città. Posto che ancora non si conoscono quali saranno le potenzialità in termini di risorse del Consiglio della città metropolitana è chiaro che ci vorrà attenzione a questi temi soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni. Ma sì, anche se, ripeto, il tema della scuola in questo caso specifico è un tema importantissimo a livello nazionale perché se non si investe sul futuro, sulla formazione, è logico che una comunità possa, insomma, nascere con delle grosse problematiche. È giusto investire, come sta facendo a Castiglione, anche all'interno della nostra comunità, della città metropolitana ma devo dire nel paese Italia perché la formazione, ripeto, la scuola è fondamentale. Nell'ambito di questa festa, perché così si chiama a Castiglione Chiamarese, dove la scuola e l'edilizia residenziale è stata presentata alla cittadinanza, hanno contribuito. Acli Castiglionese con che cosa? Noi in questa festa qui facciamo i testaroli perché siamo specializzati in tante cose ma specialmente i testaroli. E in altre feste? E in altre feste facciamo la Sagra della Panella, la Sagra della Polenta e adesso il 4 novembre, che è di sabato, facciamo lo stoccafisso e l'incasso va per acquisto dell'ambulanza qui della Croce Verde a Castiglione Chiamarese. Anche il consorzio rurale Missano è presente a questa mattinata importante per la città. Cosa fa il consorzio nell'ambito dell'anno qui? Il consorzio si occupa principalmente di strade consortili, poi ci occupiamo anche di alcuni servizi in collaborazione con il Comune, la Polizia dei Sentieri e ultimamente siamo riusciti a posizionare delle panchine, di creare delle zone di sosta lungo i sentieri. Grazie al finanziamento della Regione siamo riusciti ad ottenere, comprare dei tavoli e delle panchine da mettere lungo i sentieri. Ma oggi frittelle? Oggi frittelle, sì. Questa è proprio la nostra specialità che facciamo un po' a tutte le feste, principalmente alle nostre due feste che organizziamo in mezzo al bosco, dove abbiamo ricreato una zona di 10.000 metri, dove d'estate proponiamo due feste, una con la porchetta e una con l'assado, proprio in mezzo al bosco. Abbiamo sempre tantissima gente che viene a trovarci e tutti gli entusiasti. Ed è un po' la nostra specialità, quella delle frittelle di cipolle, di zucchine e di baccalà. Cerchiamo di fare qualcosa per il nostro territorio, per questi paesi che meriterebbero sicuramente qualcosa di più, soprattutto a livello di bellezza naturale da vedere. Teamunti, presidente della Proloco di Castiglione Chiavarese, presente in tutti gli eventi. Quali sono? Guardi, noi in special modo organizziamo due cose. La cena d'estate, che quest'anno non l'abbiamo fatta per motivi di salute, e poi abbiamo fatto la mini-espo, che siamo già alla quarta edizione, che è molto frequentata, dove presentiamo le attività del nostro territorio e anche tutte le associazioni con l'occasione si organizzano per presentare le loro sagre, i loro prodotti, gli agriturismi, i bed and breakfast, queste cose qua. Poi abbiamo un punto di informazione turistico, dove diamo tutte le informazioni per ciò che riguarda, per quello che può servire a Castiglione, per le persone che hanno bisogno di essere informate su bed and breakfast, eccetera. Poi teniamo aperto anche la biblioteca. Ultimamente abbiamo organizzato un corso di inglese per i bambini della scuola elementare, che è molto frequentato, e adesso diamo uno spazio anche per gli anziani, a lunedì pomeriggio, dove ci vediamo insieme per fare delle attività ludiche e anche per intrattenersi con merende e cose varie. E poi quando ci chiama il comune per eventuali cose, noi siamo sempre presenti. È l'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Castiglione Chiavarese, che attraverso le mani di Bruno Zanini ha voluto lasciare qui sul piazzale della Chiesa un segno che riguarda proprio gli alpini. Che tipo di lavoro ha fatto e che tipo di... Lei è un alpino innanzitutto? No. Quindi ecco, come ha interpretato quello che gli è stato chiesto da un punto di vista artistico? Vabbè, l'ho interpretato su Marmo e niente, l'idea è venuta insieme con gli altri alpini, una cosa o l'altra, ho studiato questo modello qua e niente. E poi l'ho proposto su disegno e poi dopo l'abbiamo riprodotto su Marmo. Ecco, lei è di Castiglione? No, sono di Casazza Ligure. Che tipo di sensazione le dà sapere che su una piazza c'è una cosa così importante che gli alpini rappresentano molto di più che una cosa strana? Gli alpini che mi hanno dato il permesso, cioè mi hanno dato questa opportunità di fare questo lavoro qua che altrimenti io non l'avrei mai fatto, cioè diciamo... È un marmo, giusto? È un marmo, sì. E da che cosa è partito? Da che pesi e da che indicazioni? Guardi, inizialmente era sui 1300-1400 kg, poi adesso sarà sugli 800 kg perché una parte è stata tolta, quindi dopo la lavorazione è diventato più leggero, comunque è sempre un bel peso. Francesco Granara che è vice sindaco di Castiglione Chiavarese ma in questo caso è un alpino ed è un alpino che rappresenta la sezione qui in questo momento. Per che sezione è? Questo vogliamo sapere. Noi siamo un gruppo di alpini e di amici degli alpini che ci vediamo regolarmente, organizziamo feste e cerchiamo di aiutare il comune e le altre cose in compere di volontariato. Abbiamo fatto svariate iniziative e dipende dalle esigenze, dipende dai momenti. Quanti siete? Noi saremo una cinquantina e siamo tutti ex alpini e amici degli alpini perché tengo a sottolineare l'importanza degli amici degli alpini che con noi ci aiutano e sono un pezzo fondamentale della nostra associazione perché dopo che hanno tolto la leva militare purtroppo non ci sono tanti alpini. Io avevo fatto all'epoca il militare nella Taurinense e mi hanno coinvolto in questa associazione, in questo spirito associativo per il bene della comunità. Io ritengo di essere una persona al comune di Cassione Cavarese nelle frazioni ben voluta, lo ritengo perché dalle dimostrazioni che mi danno come vice sindaco, come alpino e anche come avvocato vogliamo dire, sono un avvocato. Devo dire che penso di essere una persona ben voluta e questo è il mio mondo, siamo in un posto bellissimo. Un posto che dà attenzione alle problematiche e oggi l'abbiamo visto. Ovviamente ritengo che è il mio dovere, il dovere di tutti quelli che hanno la mia età di impegnarci per il bene comune. Io mi sono impegnato per quello che ho potuto nei miei limiti per il bene del mio comune, continuerò a farlo finché potrò farlo, sia come Alpine, sia nelle altre associazioni, sia in comune. Ripeto, sono vice sindaco. Bene, non mi resta che lasciare le previsioni meteo per la giornata di domani alla programmazione di Entella TV che prevede tra poco Punto Sport per raccontarvi tutto quello che è successo nel fine settimana calcistico dalla terza categoria fino alla Serie B. Ricordo che l'informazione locale della nostra emittente tornerà domani alle 12.45, alle 14.15 con il TG di Guglio Gente, mentre in serata andrà in onda il TG di Guglio Tradizionale alle 19.30 e alle 22.45. Grazie per l'attenzione. A domani. Previsioni per domani, martedì 7 novembre. Un flusso di aria umida nella nord-est determina ancora nuvolosità diffusa, con precipitazioni deboli o localmente moderati sui versanti vadani. Fenomeni più sporadici sui versanti maritimi, in particolare a Ponente. In serata, attenuazione delle precipitazioni e tendenze a schiarite sulla costa. Venti moderati o forti dai quadranti sidentronali. Possibili raffiche sui 70-80 km orari agli sbocchi delle valli e localmente oltre 100 km orari sui rilievi. Mare mosso a sottocosta, localmente molto mosso a Ponente, fino ad agitato a largo. Umidità su valori medio-alti. Le temperature previste. Sulla costa tra 10 e 14 gradi. Nell'entroterra tra 5 e 10 gradi.